San Valentino, la festa degli innamorati, una ricorrenza che si suole festeggiare in coppia, magari in privato, cercando di restare con il proprio compagno, la propria compagna, con chi si vuole bene, per ricordare un po' i tempi passati, ma anche quelli attuali e quelli futuri. In genere si festeggia in questo modo, questa ricorrenza del santo degli innamorati. A Paralmiti hanno voluto trovare una forma leggermente diversa, simpatica, di ricordare questa festa intitolando un vicolo, una di quelle viuzze che ci sono nei nostri paesini, che collegano due parti del paese, molto strette, riservate, ci passa una sola persona. Ecco, dicevo, hanno voluto dare, nominare, uno di questi vicoli, il vicoletto degli innamorati. Una simpatica manifestazione, dicevamo, che ha chiamato abbastanza persone, anche se il tempo non era dei migliori, con freddo e vento, però tanti giovani ci sono stati, ma anche tanti anziani che ricordano appunto l'amore, inteso in tutte le sue parti, inteso diciamo non solo come il bene che ci si vuole tra due persone, ma anche il bene che si vuole al proprio paese, al proprio vicino, alle proprie cose. Ecco, un po' che tiro, questo è il senso di questa manifestazione. Manifestazione voluta a cui hanno partecipato con la collaborazione nel comune, alla Proloco, è un'associazione che sta per nascere lì nel paese, che dovrebbe prendere il nome di uno dei posti rinomati, la cosiddetta Pietra Elisa. Ebbene, come dicevamo, questa manifestazione è stata fatta nel pomeriggio con la presenza di tanti bambini che giocavano in quella che è ormai da un po' di tempo a questa parte, la piazzetta intitolata Minoreitano, che è stata inaugurata alcuni anni fa proprio lì al paese. E da questa piazzetta si dipana un vicolo, un vicolo a cui è stato dato questo nome, il vicolo degli innamorati, con la panchina degli innamorati, la targa per gli innamorati. Diciamo che in questo modo si è voluto ricordare l'affetto, il bene, il piacere di stare insieme, ma ricordiamola innanzitutto, è stato ricordato l'amore.